Ci faccia vedere PA Flex Ha finito la fan experience con LG e adesso iniziamo il concerto Let's get it! E quando mi prendi la faccia Vai vai ruba l'occhio Com'è ma scusami? La sgara Com'è? Com'è ma? Basta eh Com'è? Dai fallo SGHERE I più odiati d'Italia In un solo ipad Eccoci siamo noi Il più odiato e il più amato Il più sorramico Il più preti Com'è ma? Flex Appena arrivati a Milano Stiamo andando a fare la tattoo experience Con i ragazzi che hanno vinto il concorso di Spotify Siamo qui Siamo qui nello studio di Andrea Allora Andrea tatuax Avevi tatuato a Silvia, Fati E loro sono i fan che ci guardano Non mi avevo mai tatuato col pubblico Questo è il mio piede sexy che verrà tatuato Non mi sono tagliato le unghie dei piedi e tutti mi stanno guardando i piedi in questo momento Maronne Tu hai già iniziato? Fa finta di non so Siccome abbiamo finito presto Silvia mi... Aspetta devo fare il fuoco Mi sistema questo tatuaggio che mi ha fatto nove anni fa esattamente Eccolo qua sistemato Dopo nove anni Grazie Allora la stream tutta tua è finita Ci siamo tatuati e abbiamo sofferto come pazzi Grazie Spotify Ciao Grazie